E' Giorgia Meloni il potere, sentiamo un frame del discorso di Giorgia Meloni, sentiamo. Una fede voglia entrare nel merito anche su proposte diverse dalla nostra, perché l'unico obiettivo che ha Fratelli d'Italia è varare una riforma costituzionale che dia forza e capacità decisionale a chi guida l'Italia. Capito? Forza e capacità decisionale a chi guida l'Italia, ma Giorgia Meloni pure il povero Duce aveva la capacità decisionale, il povero Duce, e tu sai cosa è successo, no? Che ci ha portati in guerra, ci ha portati in guerra e ci ha portati in guerra con la Germania, l'Italia ha perso la guerra ed è uscita letteralmente distrutta. Nella Roma Repubblicana, la Roma che fece grande, i consoli erano due, due consoli, in maniera che uno potesse controllare l'altro. Capitolo, Giorgia Meloni, andiamo, Giorgia Meloni, io sono Serafino Massoni, io la storia la conosco bene, Giorgia Meloni, cara, sai, lasciamolo stare il potere decisionale del capo. A te, Giorgia Meloni, e a tutti voi tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni.